Si è svolto nella sala Buozzi di Giulianova l'incontro formativo ZES, zona economica speciale abruzzese, dalle parole ai fatti. Un convegno sull'importanza delle zone economiche speciali che hanno rappresentato l'elemento trainante delle eccellenze economiche mondiali degli ultimi 20 anni. Solo per fare un esempio, Dubai e Hong Kong sono ZES, sono oltre 2.700 nel mondo le zone economiche speciali, soprattutto in Cina, di cui 77 solo in Europa, per la maggior parte in Polonia, dove hanno mostrato tutta la loro efficacia in termini di eccellenze dell'economia. Abbiamo fatto questo incontro per vedere e inquadrare esattamente che cosa la zona economica speciale abruzzese può dare alla regione. Siamo ancora in fase di perimetrazione, perimetrazione che noi abbiamo acquisito come convegno del centro in modo positivo, è giusto collegare la costa all'interno, però mancano ancora delle piccole limature per trovare delle aree industriali, ad esempio facciamo l'area industriale di Mosciano che non può essere una singola area ma dovrebbe essere ricompresa con Mosciano, Roseto, Giulio Nova e Notaresco. Cioè è più importante nella filosofia della zona economica speciale avere un'area industriale omogenea che possa essere sfruttata su quattro comuni che non mettere la bandierina di avere un singolo comune. Ciò detto, la zona industriale speciale è una cosa importantissima che segnerà la politica industriale abruzzese per i prossimi vent'anni per cui la nostra regione la deve toccare e giocare al massimo livello di impegno infrastrutturale, politico ed economico possibile.